Amici proseguiamo dietro l'escape. Quindi I paesi sono contrastanti Ma il bloccatore è carico? Cosa? Cazzo? 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 Tu as sens in my antennae. The Glamour Gone already knows. What a goddamn mess! Oh, play. Absolutely not. You're good, okay? You might even wail. But the Glamour Gone will destroy you, Francis. Frances? I'm afraid this is a moment beyond the measure of Frances Vendetti There's no Frances Vendetti in the Extraordinary Out there dammit They call me the friendly General of the Heavy Metal Light Brigade And not a single organism can compare to the power in these ten little piglets You believe that? I have to Wish me luck if you want, darlings Resolviamo i casini di Lightman, dai No, it's just the tip What the hell is that? 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 Let me play with you I'm not sure what the hell is, but another day Well, I do know If you look at the club You're so glad You've got to be black and white francesina alla crema oh thank you oh wonderful crowd is here i'm getting turbo interference ok they may have me confused with someone else you've got eyes on lightman can you get through them nope not answering he won't he's driving his way up jungle same old show same old song ask what the locals thought did you little nugget see lightman how was it and they're not oh delirious no hope at all lightning survives us which he probably won't I'm going to fire him into space. God, that'd be half way to the tastemaker by now. I should hope so. He's the support act. You know, I don't believe in miracles. But I might believe in... I'm going to fire him into space. Ok. Attiviamo tutti i fiorellini. E tutto quanto. Savoro. Vai, attiva tutto. Bellissimo. Mi ricordo da un po' Pandora, un po' la giungla di Drauzan nel primo Kingdom Hearts. Va bene così. Ho un cazzo di caldo. Puttana neva. Sto morendo. Buonasera. Ok, quelli sono i tasti. La giungla è diventata sempre un po' elettrica quando qualcosa di speciale si aggira negli intorni. E quando qualcosa di speciale vaga per questa strada, ha in mente soltanto una cosa. Là fuori puoi anche essere a capo di regni interi, ma nel ghettopletto sei uno scemo. che è una nuova scelta. Esatto. Quindi devo chiederti la tua storia è all'altezza del ghettopletto di Hyperion? La storia inizia a Candy Hammer, che rotate su un axis uguale alla formula matematica per la perfetta crema croquembouche. Continuo. Non capisco se si è bugato o se veramente non deve parlare. Ok. Si, si chiamava Lightman, è già sul suo cammino. Ah, pensavo di dovevo suonare per lui. No. Va bello. Pagestino. Non vedo quasi un cazzo, però va bello. Bello. Comunque chi ha pensato a questa droga, dabbè, secondo me avrei preso la stessa droga che prese lui Skyrold per schiarlo vicino al paese che non ne aveva. Per se non... non ve lo spiego. Ok. 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 No, però voglio continuare a suonare per bloccare tutto. Vai ... ... ... ... ... Tu vado a light man Vai Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Okay. Okay. Here's a hard one for you. Question three. Before you were... What was your occupation? You're a conservationist of impossible creatures. You've been a beach. And... And... We're clear. The contest winners are outside. Okay. 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 I'm... 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 That's all we have time for darlings. That's all we have time for darlings. Buongiorno, capisci? Lightman, cosa hai fatto? Hai maroonato noi tutti! Oh, no, 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 no! Non se mettiamo un show per ricordare! E, figlio, ho restato un show memorabile in me! Violetta è devastata! Non ti preoccupi di Violetta, è una ragione! Sono sicuro che è un genio! Non ti preoccupi di tutto questo! Tu e io, siamo percibili! Siamo gli ultimi sottotitoli in città! Kid, questo è il nostro destino! Questo non è solo il destino, questo è solo tu! È solo tu, riuscire ad una cosa che non sarà mai tornata, e non sbagliare a chi è scoperto. e non sbagliare a chi è scoperto! Violetta è davvero meglio di voi! E non sbagliare a chi è scoperto! E non sbagliare a chi è scoperto! E non sbagliare! non sbagliare a chi è scoperto! E non sbagliare a chi è scoperto! Non sbagliare a chi è scoperto! Non sbagliare a chi è scoperto! Ah ok! Vai! Ci sono! Musica amplificata! Completa tutte le sessioni! Nooo! Come completare tutte? Abbiamo già finito! Noi! Ili immagini a chi si era una volta! si confermo che ando il tutto il piano è quello no questo è lo spirito andiamo non serve il risaglio di un hit per due lo so, però è pizzeria per movimentare un po' di più ok ok andiamo questo è l'audito è l'audito è l'audito spero non è l'ultimo l'audito l'audito è venuto a un finito. E? Cosa era? Era fine. Eccolo? Cosa significa fine? Mi sono creato per credere che fine era una critica devastante. Si, probabilmente è vero. Beh, dovrei essere ancora più spettacolare che normalmente. Sto scopendo che non sia sufficiente. Cosa? 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 Cosa scopendo è come una stale ordeuvre o un terribile kiss. Non vale bene per l'affare principale. Anche il tuo show più spettacolare non può essere sufficiente per spettacolare. Non c'è nulla che possiamo fare? Oh, c'è qualcosa. Ma è troppo pericoloso. Non lo suggeriria mai. Anche se è molto vicino. Dicci, un evento monumentale in waiting? Un'attività che solo appartiene una volta ogni 10.000 anni. Se potete convincere a te portare a la ricetta. Un'attività. E' un'attività. È in un'attività. È in un'attività. È in un'attività, a la parte del questo campo. Il resto è per te. E Frances? Ci c'è qualcosa di più che dovrebbe sapere. C'è il tempo in Calypso? 7.04. 8.00 PM. Il mio show! Cosa! Ci sono in un'attività? Lo so. Ci sembra quasi impossibile, non? Di sembra? Cosa Learn? Cos'è un'attività più bellissima di nello questo campo? Ah, sì. Cosa per andare dentro? E tu sicuro? Cosa, corsa in questo campo? Non c'è fai gelato, non c'è fai gelato. Non c'è fai gelato. Perchè che ho sconso che il ruolo di sì. I'll make sure not to party No noise of any kind Okay The flowerpods might start dancing Dancing's how parties start Apparently Oh, he's brilliant Lightman Oh, he is Really We've seen it before, but I thought this time I thought he might have added a little Shrubbery You know, shrubbery Something fresh A bloom of something strange and new Am I making any sense? The monster It's Zeppelin-sized Little dude Is that you causing a rumble? I might be back in business yet Keep it up Look, I like lightning, okay? But I don't know This time I wanted to stand a pede, you know? I wanted to experience something raw and unseen I wanted to fear for my life Okay Okay Okay, so he's got a potential What's up here? Qu'est-ce che sta succedendo qui? Questo lato è un rift fuoco da una catastrofe! Se qualcuno va adorare e causarà... ...l'accomitare la pensione! ok è come quando abbiamo usato la calizza wow, where's the party? this is my jam! they're playing my jam! what is your name friend? they call me Floyd I got a favor to ask you Floyd you wanna ride on my hat, don't you? yes Floyd, I do ok oh god ok ok devo continuare a suonare effettivamente a Non sto dicendo nulla perché sono impegnato a godermi tutto. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! La prossima parte!